Il GUP di Milano, Giovanna Campanile, ha prosciolto il sindaco Giuseppe Sala, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di abuso d'ufficio. Sono stati invece rinviati a giudizio gli altri imputati, tra cui due società e l'ex manager di Expo, Angelo Paris, accusati in concorso con Sala, di falso. Per alcune di queste posizioni il processo si aprirà a Milano, per altre a Como. Per questa accusa, l'ex AD di Expo è già a processo, l'udienza è fissata per il 15 maggio, perché ha chiesto il rito immediato senza passare per l'udienza preliminare. Il procedimento aveva al centro l'appalto della piastra dei servizi dell'Esposizione Universale, che vedeva tra gli otto imputati anche il sindaco di Milano, accusato di abuso d'ufficio e in qualità di ex AD di Expo. In mattinata, per circa tre ore, la difesa del primo cittadino ha controreplicato alle repliche della scorsa udienza della Procura Generale, poi la parola è passata anche ad altre due difese. Secondo l'accusa, quando era commissario unico per l'Expo, Sala avrebbe violato le norme del Codice degli Appalti ed esercitato un potere di deroga non in linea con le normative europee, decidendo di affidare senza gara la fornitura di 6.000 alberi per arredare il sito alla Mantovani S.P.A., che ne trasse un vantaggio economico. La difesa del sindaco aveva già fatto notare che i PG avevano modificato di nuovo l'imputazione. La difesa, in pratica, ha sostenuto che l'affidamento diretto alla Mantovani della fornitura degli alberi era un affidamento legittimo e senza profili di illiceità, come invece voleva sostenere la Procura Generale, che aveva parlato anche di un vantaggio patrimoniale per l'impresa. La difesa si è detta anche fiduciosa per il processo in corso per Sala sull'accusa di falso per la presunta retrodatazione di due verbali della commissione giudicatrice. Il sindaco è contento, è stata ristabilita la verità storica su questa fornitura di alberi e su come è andato Expo, che è stato un grande successo per l'Italia, lo hanno detto i legali del sindaco.